Non è in ufficio? Luca Pastore? Sì Di qua Piacere Rocco Ventura Polizia, giusto? Sì Meno male, mi sentivo in minoranza Qui alla PG ci sta di tutto Finanzieri, porfa Fumi? No Fumerai Scaglia! Cerco da nuovo Renditi utile Una copia di ciascuna Lì Prova, prova Attenzione Sì Magni Se la puoi mettere anche nel taschino Chi dobbiamo beccare? Mario Chiesa, socialista Presidente del Pio Albergo Trivulzi Amico di Craxi come Tognoli e Pilliteri Punto a diventare sindaco Ha chiesto a Magni il 10% sull'appalto per le pulizie E Magni l'ha denunciato? Eh sì Ma solo perché non c'ha i soldi per pagare le tangenti Eh c'è crisi Shhh Lo sta pagando Ho solo 7 milioni In questo momento sono un po' in difficoltà E gli altri 7? Moviamoci Mi sa che il sindaco non ci diventa più Quei soldi sono dell'ingegner Chiesa Sbagliato, quei soldi sono nostri, avvocato Controlli lei stesso Ho firmato tutte le banconote Mi dispiace ma il suo assistito è in arresto per concussione Capitano, occhio eh Ci saranno dei fattori, libri contabili Tutto quello che trovate Va bene? Certo dottore, stiamo esaminando tutto Allora Faccio dubbio, avvocato Almeno in bagno si può andare, sì? Si sbrighi Chiesa Mi lasci stare Come se per me Che cosa ha buttato? Chi cazzo c'è nel bagno con Chiesa? Pastore Quello nuovo, dottore Che succede? Mi ha aggredito, io lo denuncio Stava buttando qualcosa nello scarico Non è vero Non è vero Ingegnere, un'altra valzetta E questa chi gliel'ha data? Piano, per favore Di Pietro Che c'era? Complimenti, è merito tuo Pigliari tu Piano, per favore Piano, per favore